La mia suocera è la sua. Due ore. È sempre costato un'ora. Ora sono due, il prezzo è salito. A piedi sono due ore. È meglio che corra. I poveri sono destinati a morire, il sistema funziona così. Che significa? Che età hai nel tempo reale? 28. Io 105. La verità è che il tempo ci sarebbe per tutti. Ci sono uomini con un milione di anni, morti con pochi giorni. Per pochi immortali la maggioranza deve morire. La telecamera ha rilevato un comportamento sospetto. Si chiama Will Salas. Tu non sei di queste parti, o sbaglio? Perché è questo dubbio? Sei un po' diverso. Vieni con me. Ora che facciamo? Rubiamo? E rubare se è già stato rubato. Avanti, servitevi pure! Prendete il tempo, è gratis! Dove l'avete preso? Mille anni nelle mani sbagliate paralizzerebbero il sistema. Lo fermerò. Non siamo destinati all'eternità. Stiamo venendo a prenderti, lo spero. Il suo crimine non era rubare il tempo. Lo voleva solo regalare.